al culmine del celio in uno slargo di via della navicella sorge il manufatto che dà il nome alla via una navicella appunto con la prua a muso di cinghiale ritrovata sebbene si creda una copia presso i castra misenatium dove sostavano un migliaio circa di marinai della flotta di capo miseno addetti alla sistemazione del velarium la copertura dell'anfiteratoro flavio oggi conosciuto come il colosseo si tratta probabilmente di un ex voto da parte di uno più marinai e fu lì sistemato da leone decimo il fiorentino giovanni di lorenzo de medici come si può notare dal basamento con le insegne dei medici da quel momento la chiesa di santa maria in dominica prese anche il nome di santa maria la navicella nel 1931 con la sistemazione della strada diventò una fontana come la vediamo ora il perché delle insegne dei medici ha una ragione la chiesa infatti fu affidata al giovane giovanni non ancora 14 anni al momento della sua elevazione a cardinale diacono e per circa un secolo i titolari rimasero quasi ininterrottamente gli appartenenti a questa famiglia che provvidero a restaurare sia gli interni che gli esterni la facciata dove spiccano gli stemmi di innocenzo ottavo al centro e altri due stemmi cardinalizi dei medici e il portico rinascimentale a cinque archi a tutto sesto con all'apice le teste di leone che appoggiano su pilastri da cui sporgono le sene che irrobustiscono la struttura sono opera del toscano andrea sansovino realizzati durante la sua tappa romana intorno al 1512 un piccolo campanile eretto nel 1715 dal cardinale diacono curzio dorico conserva ancora una campana docentesca superiamo il cancello ottocentesco fatto costruire dal cardinale domenico consolini la chiesa era anticamente una delle sette diaconie destinate alla cura dei bisognosi e quindi retta appunto da un cardinale diacono il gradino più basso del cardinalato nata in origine come oratorio alla fine del settimo secolo fu interamente ricostruita agli inizi del secolo nono mantenendo quasi intatta fino ai nostri giorni la sua struttura interna dedicata alla madonna prende il nome di santa maria indomnica di incerta interpretazione ma che potrebbe avere significato di nella proprietà se dell'imperatore o di qualche altra persona non si sa oppure semplicemente domus dei nella casa di dio o ancora una traduzione un po forzata del nome greco ciriaca rimarremo nel dubbio l'interno si presenta tre navate separate da nove colonne di spoggio di granito grigio meno due di granito rosa che terminano con tre absidi in alto il soffitto ligno a cassettoni dipinti completamente rifatto nella seconda metà del cinquecento e la cui committenza è del cardinale ferdinando de medici poi diventato granduca di toscana con il sospetto di aver avvelenato il fratello e la consorte richiama oltre al medaglione centrale con tanto di dedica la memoria di leone decimo gli attributi della madonna propri delle litanie alle dedicate come ad esempio porta del cielo fonte della nostra gioia rosa mistica stella mattutina eccetera a intervalli regolari possiamo notare delle navi la cui prua è formata dai simboli degli evangelisti l'aquila il toro il leone e l'uomo un cornicione affrescato dal fiorentino per in del vaga sul disegno di giulio romano ambedue collaboratori di raffaello corre per tutta la chiesa e mostra i simboli della potente famiglia medicea oltre leoni abbeverati da putti con evidente riferimento al nome che il papa si era attribuito osserviamo l'anello intrecciato con tre piume le tre virtù teologali fede speranza e carità e il motto sempre a indicare la perenne continuità della famiglia e il gioco simbolo assunto dallo stesso leone decimo con il motto suave tratto dal vangelo di matteo il mio gioco è dolce e il mio carico leggero sulle pareti laterali della navata centrale appaiono inserite tra motivi floreali intervallate dalle teste di leone le scritte riferite agli attributi mariani delle litanie affreschi della seconda metà dell'ottocento prima di occuparci della splendida abside spenderemo due parole sul suo committente il romano papa pasquale primo che governò la chiesa dall'ottocento diciassette all'ottocento ventiquattro per sette anni erano tempi in cui dal punto di vista politico liberato dal dominio bizantino e dal pericolo longobardo grazie a carlo magno il papato tentava di affermare il proprio potere temporale sul roma e oltre un passetto avanti e mezzo indietro mentre dal punto di vista religioso comunque legate a questioni di potere doveva far fronte alle ondate iconoclaste che venivano da bisanzio nonostante nel secondo concilio di nicea il 787 era stata accettata la rappresentazione delle immagini da venerare ma non da adorare che però non piaceva tanto a carlo magno più favorevole all'idea di papa gregorio magno secondo cui le immagini dovevano avere semplicemente un carattere didattico verso chi non sapeva leggere per la cronaca carlo magno era forte di spada ma debole di penna non andando oltre la sua firma insomma era analfabeta dal punto di vista strettamente pastorale si adoperò per il recupero dei martiri dalle catagombe per traslarle in posti più dignitosi solleticando così l'interesse dei cristiani per le reliquie e incrementando suo malgrado il mercato di trafficanti come il diacono deodato che mise su una vera e propria impresa commerciale proprio nel nono secolo ma veniamo al mosaico che è a tutta evidenza una riaffermazione dei dettami del concilio di nicea sulla venerazione delle immagini di gesù maria dei santi l'arco trionfale sostenuto a due colonne in porfido con capitelli ionici mostra in alto il cristo inserito nella cosiddetta mandorla forma che nasce dalla parziale sovrapposizione di due cerchi due mondi quello materiale quello spirituale nel cui mezzo sta il cristo mediatore tra l'umano e il divino al suo fianco due angeli e a seguire le figure di san pietro e paolo e gli altri apostoli in basso ai lati mosè ed elia invitano ad osservare il catino dove sotto il monogramma di papa pasquale sta maria adagiata su un cuscino rosso e seduta su un trono con in braccio gesù benedicente i volti sereni guardano verso di noi nella tipica tradizione iconica orientale lo sfondo verde gli ori per assumere il colore blu movimentato dalla serie di areole degli angeli stessi quasi onde in un mare celestiale maria apre la mano destra verso il papa che è il nimbo quadrato simbolo dei viventi in odore di santità e la cui figura inginocchiata che regge il piede di maria è raro esempio proporzionalmente più piccola rispetto ai santi un significativo gesto di umiltà analogo a quello di papa onorio terzo nell'abisi della basilica di san paolo fuori le mura ripetuto 400 anni dopo un elegante epigramma in basso celebra l'avvenimento che può essere tradotto più o meno così come vedete un accenno sulla parola decus che se andate in giro su internet viene trascritta più volte come deus che che oltre ad aver messo in difficoltà il mio cattivo latino dovrebbe allertarvi sui pericoli del copia in colla nel catino in basso tre affreschi di fine seicento attribuiti al pistoiese lazzaro baldi seguace di pietro da cortona che descrivono tre episodi della vita di san lorenzo e di santa ciriaca divisi tra loro da colonne che riprendono quelle reali ai lati del catino e che rappresentano la guarigione di santa ciriaca la lavanda dei piedi e la distribuzione di beni da parte di san lorenzo nelle cunette laterali scarsamente visibili un san zaccaria e un san giovanni evangelista nelle piccole abside laterali disegni di gisberto ceracchini a retino degli anni cinquanta del ventesimo secolo che cito per dovere di informazione esiste anche una cripta dove sono conservati sarcofagi e altri resti e questo è tutto un saluto da vidlab grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti